In questo tecle di Bremen nasce il gol Merazzurro, il tedesco scambia con Morello, centra e Klinsmann in sacca di prepotenza. Il tedesco scambia con Morello, centra e Klinsmann in sacca di prepotenza. L'Inter passa il turno, un bel biglietto di presentazione per il tedesco ed un sospiro di sollievo per l'Inter messa in difficoltà dallo Spezia. Adesso le immagini possono cessare.